Cominciamo con i primi due gol subiti perché guardando l'ultimo prima di questa partita di Benevento gli ultimi tre gol sono arrivati su azione d'angolo, lì c'è qualcosa da sistemare? Direi di sì, nel senso che non si possono prendere tre gol su panina inattiva ci siamo cascati a Benevento, ci siamo ricascati oggi però a di là di questo non è stata una buona prestazione un po' del utento anche sul piano dell'atteggiamento perciò a di là anche dell'errore arbitrale nel secondo gol che secondo me c'è da farlo però non abbiamo fatto la partita che di solito facciamo Ecco, proprio il Presidente ha rimarcato questa cosa dicendo dopo due o tre prestazioni buone che facciamo sembra che siamo arrivati e dobbiamo recuperare l'umiltà Sì, è vero, sembra che non riusciamo mai a dare continuità nel senso che dopo le vittorie caschiamo sempre in una prestazione non buona è sinonimo questo che ci sono le cose da aggiustare a livello anche di personalità a livello di... che quando si entra su questo tipo di partita bisogna essere tosti loro sono stati più tosti di noi e hanno vinto Hanno vinto soprattutto dopo il gol del 2-1 hanno ripreso in mano la partita perché il gol di Scognamiglio sembrava aver portato l'ago della bilancia dalla parte del pescato Sì, è vero, dopo il pareggio la squadra si stava esprimendo bene abbiamo preso un secondo gol che non ci stava perché era fallo tutta la vita purtroppo poi ci ha condannato il terzo gol che abbiamo preso e lì la partita è diventata molto difficile Dalla partita di Sottile le è piaciuta? Ma ha fatto delle cose buone e delle cose meno buone però ha fatto quello che doveva fare Quarto d'ora finale di Bellini con dei movimenti che non avevo mai visto a Pescara questa sponda fatta con forza a creare anche gli spazi ad allargare gli spazi potrebbe servire in futuro? Sì, deve solo piano in piano integrarsi con i ragazzi capire un po' il gioco come si gioca in Italia però la fisicità è un'arma che abbiamo È entrato bene Del Sole in partita? Meno Capone? Sì, Del Sole è entrato bene e Capone no Le chiedo un'ultima considerazione Tatticamente c'è qualcosa che ha sbagliato il Pescara questa sera? Perché il Cittadella poi ha dimostrato di fare un po' quello che voleva soprattutto negli ultimi 50 minuti Sì, nella seconda parte non abbiamo fatto bene soprattutto abbiamo subito i loro cambi campo siamo stati molto bravi ad accorciare facevamo girare sempre l'attaccante e questo non va bene perciò ci sono delle cose oggi non è andato bene niente di quello che si doveva fare Soprattutto i risultati che arrivano dagli altri campi forse fanno chiudere l'argomento a diretta? Ma non ci sono neanche i risultati degli altri Senza ha perso 3-2 in casa col Brescia vinceva 2-0 Ah, non lo sapevo questo noi dobbiamo fare la nostra squadra cercare di arrivare ai play-off come abbiamo sempre detto L'ultima, Mancuso ha preso il giallo al 45esimo questo le costringerà a reinventare nuovamente qualcosa di nuovo venerdì già ci sta pensando? Eh sì, adesso vediamo 4-3-3 Vediamo, adesso non fatemi parlare adesso dopo la partita che mi girano anche le palle mi fate aiutare con questa domanda qua Per l'atteggiamento dei suoi girano? No, mi girano in sostanza per tutto per aver preso 4 gol e per tante altre cose mi fate riflettere e fatemi passare il momento anche di rabbia che poi da domani ci penserò La carica giusta per il Cosenza